Appuntamenti, Sky Calcio Show, tutte le partite, il posticipo... Ringraziamo Alessandro Matri, Maragocchini e i ragazzi Aldignana. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Faina, ciao a tutti. Giuseppe Taffini con Corazzi, canta la Bosta Nuova. A domenica. Un amico mi ha consigliato di venire in questo studio di registrazione. Dice che un cantante brasiliano cerca un batterista. E' l'emergente cantante di Bosta Nuova, Giuseppe. Sì, sono io, sto cercando un batterista. Ma tu sei un'opinionista di Sky. Sì, però devo dire una cosa. Le mie teleconi, l'hai mai sentito? Sì, sì. Allora, le mie teleconi sono con musica, archi, angeli che cantano in coro quando fanno un gol. Messi! E amici, questo c'è un coro di angeli che stanno cantando. I grandi campioni camminano sui fiori, hanno i piedi mielati. Perciò le mie teleconi sono tutta una musica, una poesia. Perciò io adesso mi do la musica. E se tu sei bravo come sono bravo io, sei rovinato. Va bene allora, ti facciamo sentire. Va bene. Dalle prime battute si capisce che Valentina May, così si chiama la ragazza del talento. Ma anche José è bravo. Quattro il manuale del calcio, conosci anche il manuale della musica. Vivo con la sua emozione, la musica enche il mio coraggio. Quattro il manuale del calcio, non ci faccio che Vivo con la sua emozione, la musica enche il mio coraggio. Quattro il manuale del calcio, non ci faccio che Vivo con la sua emozione. No José, la canzone è mincata un sacco, io ci sto, posso poter citare. Ti è piaciuta? Molto bene, ti farò sapere poi adesso devo andare via, sono molto, molto a fretta. Dovete andare a Wembley? No, non è mai mai stato, figurati in posti migliori. Maracanã? Ma no, anche Maracanã sono già stato. Vado a un concerto qui, cominciamo a comprire un concerto che è molto importante per gli amici. San Siro? Ma no, che San Siro, sono già stato. Vado nel centro boccioccoli per i pensionati di Gorgonzola. Grazie a tutti.